lo devono dare al padrone che è il diretto mandatario del Signore cioè il nostro Signore Gesù Cristo quindi questi nomi di Signore Gesù Cristo e dei nomi del Signore fanno una fame ma una fame ovviamente i monaci hanno una soluzione hanno una soluzione nella tasca sono buoni io come vero spiego questa cosa a voi sono buoni piano piano poi chiedete a mamma a mamma e a papà vediamo che cosa ti dice noi ci ogni responsabilità sono buoni ma contadina la serva della club dici graziata che non sei altra c'hai le ossa tutte che dà fuori con due pellette sei fatta tutta brutta non mangi ti manca un'idenza stanno a sentire noi siamo cento di noi come puoi ben vedere siamo tutti belli grassocci sane in salute abbiamo una terra pulita fresca coltiviamo la terra preghiamoci svegliamo la mattina presto facciamo le nostre preghiere dopodiché andiamo nell'orto e grazie al nostro lavoro e al nostro signore Gesù Cristo ci dà tante 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 e che volete fare a me allora se volete parlare dei fatti vostri noi stiamo parlando di nostro signore Gesù Cristo che fa crescere i pomodori fa crescere questa cosa i contadini insomma i monaci sapete no che erano chiusi chiudevano dentro dentro a convenio facevano tutto da sempre tutto da loro fai una cosa tu che ti muori di fame che stai fuori da queste mura una retta marita lascia stare il tuo marito vieni con noi ti svegli la mattina presto facciamo una bella preghierina poi ci fanno una bella colazione siamo solo 100 non ti deve preoccupare assolutamente andiamo nella terra insomma coltiviamo facciamo e poi a fine serata così per ringraziarci dell'ospitalità ti puoi inchinare un centinaio di volte ad ognuno di noi e chi ha orecchie per intendere chi ti intenda perché vuol capire capisca ma e che si doveva inchinare a me tira ancora due anni quindi sto tranquillo il brano si chiama Ara lausez lausez la saz Ara lausez la saz il comandament la bat Ara lausez la saz il comandament la bat bella si vuset abad monge de nostra meson a profet de tot lus mongez prenderios nero el zon ma vus no restare bella si lucion si persa non su ti it la bat bella si vuset abad a profet de tot lus mongez la saz il comandament la bat bella si vuset abad mongez bella si vuset abad a profet de tot lus mongez prenderios nero el zon ma vus no restare bella si tu jorge si persa non su ti it la bat as ara lausez lausez la saz il comandament l'havat la bat ara lausez il comandament la bat il comandament l'havat Grazie